Buongiorno, mi presento, sono Michael Brown, lavoro qui a Roma con la Fondazione Ebert e siamo partner in questa iniziativa della rivista Pandora e della Drecani, iniziativa che abbiamo subito accolto con entusiasmo, posso dire, perché infatti è uno dei temi su cui vorremmo lavorare intensamente nel futuro. Nell'ultimo film che abbiamo visto, alla fine si vede una ragazza che prima lavora lì alla sua postazione, poi tiene in mano un cartellino piccolo piccolo su cui c'è scritto in tedesco Zukunft, futuro. E' molto interessante perché l'industria per un po' di tempo, neanche troppi anni fa, penso ai primi anni 2000, passava per essere il passato. C'era quella roba sporca dove ci si sporcava le mani con l'olio, era l'Ottocento e il Novecento, mentre il ventunesimo secolo erano i servizi, la terziarizzazione. Leggevamo testi, articoli sull'economist che criticavano ferocemente la Germania, perché aveva troppa industria a loro avviso, non avevano fatto quel salto dell'Inghilterra che aveva smantellato buona parte della sua base industria reale. Ed era un po' in generale lo sguardo anglosassone, dire ma ancora vi sporcate le mani, noi abbiamo organizzato una bella piazza finanziaria a Londra e ci fa un sacco di PIL in maniera ben diversa. Era uno sguardo che coinvolgeva in Europa due paesi in primis, la Germania e l'Italia, essendo loro i due più grandi produttori industrie reali. Già per questo motivo ci interessa questo confronto sull'Industria 4.0, perché ci interessa più che non tutti gli altri paesi in Europa e ci interessa perché infatti i paradigmi sono cambiati. Oggi è molto più difficile affermare che l'Industria sia il passato. Oggi l'UE anzi fissa soglie minime di industrializzazione al 20% eccetera che sarebbero ospitabili per tutti i paesi europei. Ma per garantirci il futuro dell'Industria torna infatti molto interessante il discorso sull'Industria 4.0, intanto perché cambia pure l'immagine dell'Industria. Di colpo torna ad essere una cosa a sembra moderna, non è più questa roba tradizionale fatta di ciminiere eccetera, ma una roba a sembra moderna nella percezione. Ma futuro anche nel senso che una delle linee di riflessioni è quelle trasformazioni in atto ci permetteranno di difendere i sistemi paesi industriali contro la concorrenza dei paesi emergenti? Ci daranno quel vantaggio tecnologico che si garantisce attraverso infatti produzioni e servizi integrati sofisticatissimi? Molti sono ottimisti su questo punto, però infatti a questo serve anche questo secondo panel. Dobbiamo interrogarci sulla vastità del fenomeno e su come ci interessa proprio non solo sul versante del prodotto e del cliente, ma sul versante del produttore, inteso come i dipendenti, gli operai, gli impiegati che lavorano e lavoreranno in quei contesti. Sono felice che qua al tavolo abbiamo quattro voci di cui due rappresentano un po' questi approcci, diciamo, per rendere sistemico il dialogo su queste questioni, sistemico fra le parti sociali e con la cosa pubblica, e due voci sindacali, posso dire anche Armin, un po' tutte e due le cose, che fino all'anno scorso era un dirigente sindacale della IG Metall in Germania, dal 2015 dirige il Netzwerk Zukunft der Industrie, la rete futuro dell'industria, dove infatti a livello ripartito fra ministero e altri enti pubblici, fra sindacati, ad esempio ci stanno tutti i sindacati dell'industria, ma anche fra organizzazioni datoriali, si porta avanti il dialogo e si cerca di rafforzare pure infatti la riflessione su quei processi nell'insieme della società tedesca. La voce ad Armin, prego.